50 anni fa ebbe luogo nello stato di New York il Festival di Woodstock, il più importante evento musicale del Novecento, che vide la partecipazione di oltre 500.000 giovani uniti dal linguaggio musicale emergente, il rock. L'evento è stato ricordato in un incontro dei venerdì del liceo di Castelvì. Il cinquantenario sarà celebrato in uno spettacolo di narrazione e musica, qui hanno lavorato, oltre al Castelvì, diverse scuole cittadine, i licei a Zuni, Figari e Spano e la scuola media a Monterosello Basso. La serata musicale sarà al Teatro Ferroviario di Sassari, il 21 maggio alle 20, con un'anticipazione nel mattinè alle 11. Vedrà partecipi alcuni allievi delle scuole che, sotto la direzione artistica del professor Mauro Cossiga, eseguiranno brani del grande concerto di Woodstock. Nell'incontro di presentazione, introdotto dal dirigente del Castelvì Gianfranco Strinna, dai docenti Gemma Frontera e Mauro Cossiga, dallo storico Giovanni Gelsomino e dall'esperto musicale Antonio Bozzo, si è parlato dello storico evento nato nel clima della grande contestazione giovanile, che non fu, si è ricordato, un fenomeno spontaneo di aggregazione, ma un progetto imprenditoriale, volvo alla scoperta di nuovi talenti rock e che mirava a creare nuove imprese discografiche, oltre a sfruttare i diritti cinematografici del film documentario che ne seguì. Certo, la partecipazione di un così folto pubblico fu imprevista e strabordante. La location non fu in realtà Woodstock, cittadina della contea di Ulster, dove il festival, rifiutato dalla gente del luogo come un convegno di drogati, dovette spostarsi in un terreno di proprietà nelle vicinanze di Bettel, a circa 70 chilometri. Ricky Evans, Joan Betts, Carlos Santana, Joe Cocker, Janice Jopin, The Who, Crosby, Steele, Nash & Young, sono solo alcuni dei nomi di artisti che ebbero un grande successo internazionale solo dopo Woodstock.